Anche quest'anno, in un anno un po' particolare per l'agricoltura, ritorna appunto la nostra Kermesse, la nostra festa dell'olio. Anche nuove novità e anche la tradizione, quindi cerchiamo sempre di mixare originalità e tradizione. Una manifestazione che parte ben 46 anni fa, ma che ha avuto un cambiamento di format nel 2014, quando a fronte della vecchia struttura di Cartoceto, un mostro al mercato dell'olio dell'oliva, si è trasformato in Cartoceto dopo il festival, perché si è voluto unire assieme a quello che è una festa dell'olio, un contenitore che era anche culturale. Pur essendo gli olivi molto belli, la fioritura è stata danneggiata per le temperature, le variazioni e quindi quest'anno si è poco oliva. Quindi è un anno, normalmente se uno dice l'olivo fa un anno sì, un anno no, quest'anno l'anno che ne ha fatte poche, ne ha fatte molto poche. La cosa positiva, io dico di quest'anno, è che in realtà gli olivi si sono rinforzati perché c'è stata una pioggia sufficiente a rinforzare le piante e quindi abbiamo le piante in un ottimo stato, quindi siamo ottimisti guardando la prossima stagione. Sulla piazza principale ci sarà l'esposizione dei produttori, lo stand gastronomico della Proloco con i prodotti tipici, su via Umberto I i mestieranti con gli ambulanti che sempre avranno a tema l'olio e i prodotti tipici. Sulle varie piazzette in alto ci sarà una degustazione di vini con l'Aisne e gli sommelier. Di qua c'è un'altra associazione sempre del nostro territorio che è la via della Seta che rappresenteranno canti storici e i prodotti, gli articoli del territorio che si usavano all'agricoltura del passato. Grande novità di quest'anno, sempre in piazza Garibaldi, un cooking show con alcuni chef stellati della nostra provincia. Quindi ci saranno tre momenti nei due pomeriggi, 5 novembre e 12 novembre, le due date di Cartocetto dopo il festival. Due pomeriggi piazza Garibaldi sarà lietata da questi chef, ci saranno degustazioni e anche vini d'eccellenza. Proseguono poi ovviamente le iniziative in piazza 20 Settembre con i mestieri, quindi gli stand degli artigiani e invece in via Marcolini ci sarà il mercato del gusto, quindi un po' diciamo vari stand alimentari. Avremo ovviamente gli spettacoli a teatro, quest'anno grande attesa per due grandi artisti. La prima domenica avremo Simona Molinari, vincitice del premio Tenco e avremo la seconda domenica invece Gemon, che anche lui quest'anno porta un po' una novità nel nostro bellissimo teatro perché non sarà solo un concerto ma sarà un vero e proprio spettacolo, quindi un nuovo linguaggio nel nostro bellissimo teatro in questa cornice così suggestiva. Non dimentichiamo ovviamente la collaborazione preziosissima con le scuole, con l'Istituto Santa Marta di Pesaro, con il Celli di Piobbico. Ci sarà infatti quest'anno una novità, i ragazzi dell'Istituto Cecchia e dell'Istituto Comprensivo Marco Polo andranno in azienda proprio per vedere sul campo che cosa significa fare l'agricoltore. Ovviamente ci saranno i sentieri verdi, quindi le nostre passeggiate in bici e a piedi, non mancheranno gli autoraduni e il motoraduni in tutte e due le domeniche, quindi che dire, davvero come sempre vi aspettiamo e siamo pronti ad accogliervi e a fare una nuova edizione di Cartoceto dopo il Festival.